La società dei concerti della Spezia organizza tre appuntamenti che puntano a valorizzare i giovani musicisti spezzini. Sì, assolutamente, nonostante tutte le difficoltà abbiamo cercato di non fermarci. Quest'anno l'idea era quella di far partire una nuova rassegna che si chiama Classica in Jeans e che vuole quindi promuovere tutti i giovani talenti del panorama nostro, insomma, rigorosamente sotto i 30 anni. Avremo tre appuntamenti ovviamente in assenza di pubblico e quindi che andranno tutti quanti visibili online sui canali social di Società dei Concerti Onlus ma anche di Teatro Civico e del Comune che ci ha prestato una grossa collaborazione nella realizzazione della cosa e ovviamente anche quelli di Tele Liguria Sud. Partiamo domani l'undici con un recital di arpa, suonerà l'arpista Valerio Lisci, si prosegue il 18 dicembre e poi il 22. Ci saranno sempre arpa, pianoforte e ancora piano. I concerti saranno trasmessi intorno alle ore 21.15-21.30 appunto sui canali web e tra l'altro sono tutti visibili gratuitamente. Oltre a questi tre concerti però avete in programma anche un appuntamento per l'ultimo dell'anno? Sì, abbiamo cercato di mantenere anche il tradizionale appuntamento del 31 dicembre, ovviamente anche questo andrà sui canali social come detto precedentemente. Ci sarà un gala dell'Iperio Ensemble e sarà un concerto molto bello e interessante perché oltre alla musica ci sarà il ballo e una parte sarà dedicata al tango e un'altra sarà una serie di omaggi alle musiche di Ennio Morricone. Grazie a tutti.